ehi ci sei sicuro di esserci o stai sognando come fai a sapere di essere sveglio e io sicuro che io esista in questo momento perché stai guardando un pannello di vetro e niente più eh sì quel tema il tema madre cos'è la realtà io vedo una tazza verde ma questa mia esperienza di è simile alla tua ciao ragazzi io sono sergio il vostro artista preferito il video non è finito tuttavia volevo ricordarvi che in descrizione potete trovare anche trip la mia webserie per i ragazzi controcorrente scoprite di che parla nel link in descrizione ciao 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 ps a furia di disegnare le mie matite si sono ridotte in questo stato quindi se vuoi supportarmi al prezzo di un caffè puoi farlo attraverso il link che trovi in descrizione questo mi aiuterà a reperire nuovo materiale per i nuovi video che andrò a realizzare in futuro grazie e a presto ciao ciao